Bebevio, cittadina onoraria di Portoferraio, questa mattina nella sala consigliare del comune di Portoferraio, la cerimonia di consegna della cittadinanza all'atleta paralimpica che viene all'Elba con la sua famiglia fin da quando aveva pochi mesi e che ormai considera la sua casa. La cittadinanza era stata conferita a Beatrice Vio lo scorso novembre proprio per il legame che la 25enne ha con l'Isola d'Elba e con la frazione di Bagnaia, con votazione unanime del Consiglio Comunale. Questa è la motivazione, a riconoscimento del suo alto senso civico e nonché del suo impegno sociale e sportivo a favore delle persone con disabilità e del suo ruolo attivo nel contrasto dei fenomeni di intolleranza e nel trovare soluzioni concrete per il superamento di impedimenti che potrebbero vanificare il raggiungimento dei propri obiettivi alle persone diversamente abili. Io sono innamorata di quest'isola, l'amo veramente tutta e casa perché sì appunto, avendo sempre viaggiato molto da quando sono nata che vengo qua tutte le estati e anche i capodanni e poi ogni volta che troviamo una scusa e torniamo qua a casa. Quindi sì, qua mi sento bene, quindi sapere di avere questa onorificenza per me è bellissimo. Un sindaco quasi commosso e molto orgoglioso ha consegnato a Beatrice Vio la pergamena della cittadinanza e gli omaggi che l'amministrazione ha fatto alla campionessa. È stata veramente un'occasione speciale perché insomma non capita tutti i giorni di avere la possibilità di dare un omaggio così importante a un personaggio di spessore, di grandezza universale diciamo. E quindi sì, ci è preso un po' l'emozione ma siamo anche molto contenti, soddisfatti, orgogliosi di questa cosa, del fatto che Bebe sia insomma una nostra concittadina ma soprattutto sia una cittadina dell'isola Reba, come lei ama definirsi e come è giusto che sia.